Ciao interisti, bentornati ad un'altra esclusiva news dall'Inter. Se sei un affezionato tifoso nerazzurro, questo è il canale giusto per te, perché qui ti portiamo in prima persona le ultime novità. Quindi non perdete tempo e iscrivetevi al canale e lasciate il vostro mi piace, in questo modo verrete avvisati ogni volta che escono nuove novità qui. Andy Brehme, uno dei nomi più venerati e venerati nella storia dell'Inter, ha recentemente condiviso le sue opinioni e intuizioni sull'attesissimo derby in un'intervista esclusiva con il canale Sport Italia. Con una carriera ricca di successi e una lunga esperienza nel club, Brehme non usa mezzi termini nell'offrire la sua penetrante analisi dell'imminente scontro tra i nerazzurri e i loro acerrimi rivali, creando uno scenario ancora più ampio per il pubblico appassionato dell'Inter. Il leggendario ex giocatore, con la sua voce autorevole, ha aperto la conversazione sottolineando l'imprevedibilità del derby di Milano, sottolineando che i successi passati contano poco quando si parla di questa rivalità viscerale. Con una convinzione basata su anni di esperienza all'interno del club, ha chiarito che, nell'ambito di questo confronto molto particolare, non c'è mai un favorito evidente. Il derby è una battaglia in cui tutto può succedere, ed è proprio questa atmosfera elettrizzante che affascina ed emoziona i tifosi appassionati, rendendolo un evento sportivo di primo piano nell'agenda di ogni appassionato di calcio. Andy Brehme, però, non si è limitato a parlare dell'imprevedibilità del derby. Ha anche tenuto a elogiare calorosamente un giocatore che ha avuto un impatto enorme sia tra i tifosi dell'Inter che tra gli osservatori imparziali, Di Marco. Il leggendario ex terzino ha elogiato il giovane talento e ha affermato categoricamente che merita di essere tra i tre migliori giocatori del mondo nella sua posizione. Brehme non ha usato mezzi termini nel lodare le qualità di Di Marco, sottolineando la sua velocità impressionante, la sua intelligenza in campo e le sue doti offensive davvero notevoli. Al culmine della sua analisi, Brehme ha espresso il suo sostegno incondizionato all'Inter, esprimendo il suo fervido sostegno al club milanese nella prossima partita. Con una fiducia incrollabile nei colori nerazzurri, ha fatto un pronostico coraggioso e ottimista, affermando che l'Inter uscirà vittoriosa dal derby. Le sue parole hanno lasciato incrociate le dita di tutti gli appassionati del club, ansiosi di assistere all'epico scontro che si svolgerà davanti ai loro occhi. Ora è il momento di condividere la tua opinione sulle parole e sull'analisi di Andy Brehme. Siete d'accordo con la sua valutazione su Di Marco? Cosa ne pensi del suo pronostico coraggioso e fiducioso per l'Inter nel prossimo derby? Commenta qui sotto?